Sono state identificate 34 persone di varia nazionalità ed eseguite numerose perquisizioni personali e domiciliari con esito negativo. Uno degli stranieri identificati è risultato da rintracciare ed è stato condotto in questura per ulteriori accertamenti. Questo è il risultato di una vasta operazione di controllo interforza coordinata dalla Polizia di Stato nella lotta all'immigrazione illegale. Numerose pattuglie della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia Municipale coordinate dal dirigente della sezione volanti della Questura e il commissario capo Alessandro D'Arrigo, coadiuvato dal commissario Guglielmo Lamagna, hanno eseguito attività di controllo del territorio in centro storico con particolare attenzione ai quartieri Providenza e Angeli. L'operazione volta a rintracciare e a rimpatriare eventualmente gli stranieri regolari. L'intensificazione delle attività nasce dalla circolare del capo della Polizia che aveva richiamato la necessità di conferire il massimo impulso all'attività di rintraccio di cittadini di paesi terzi in posizione irregolare, nonché allo sfruttamento della manodopera nelle varie forme di criminalità che attingono dal circuito della clandestinità, in particolare attraverso una specifica attività di controllo delle numerose e diverse forze di polizia ed in attuazione di piani di controllo congiunto con il contributo operativo delle polizie locali, cosa che è stata confermata nella riunione che si è tenuta in prefettura nei giorni scorsi. In assenza delle indicazioni fornite dal Ministero dell'Interno era stata raccomandata l'intensificazione dell'attività volta al rintraccio degli stranieri. Altri servizi disposti per il territorio della provincia saranno coordinati dai dirigenti del commissariato di Gera e Niscemi e dai comandanti della Compagnia dei Carabinieri nei territori di rispettiva competenza.